Perché 2 è più di... 2 è più di 1, giusto? Quindi dire, minchia, ne ha mille, va il buchi, una figa, è come dire ne ha 2 invece che 1, perché dire 2 invece che 1 è più di 1 e quindi è il paradosso del dire più e quindi è come dire mille, quindi anche dire 3.